Buon di buona gente, sono Luigi in arte Lusio, anzi, professor Lusio, e benvenuti a questa nuova lezione di storia. Oggi proseguiamo con la nostra sortita nella Spagna di Filippo II e dopo aver raccontato, dopo aver scoperto la storia dietro alla leggenda di Don Carlos, prince fortunato e folle principe delle Asturie, passiamo ad una storia poco nota, ma che pure ha riscosso un certo successo nell'ambito soprattutto della cultura. Infatti io quando mi sono andato ad informare e a studiare i vari aspetti di questa vicenda non ci potevo credere, mi sembrava di trovarmi di fronte a un romanzo, un film, anche una telenovelas, dai diciamocelo, perché c'erano tanti di quegli elementi che fanno molto telenovelas, persino i momenti cliffhanger proprio, dove vedi la protagonista in turno, la puntata si interrompe e c'è la protagonista con lo sguardo sconvolto, tipo così, ecco tipo quello. Io spero di rimanere serio durante questo video. Allora, di che parliamo oggi? Siamo sempre alla corte di Filippo II il Prudente, re di Spagna, e parliamo adesso di un personaggio poco noto, almeno qui da noi in Italia, famosissimo invece in Spagna e abbastanza noto per chi bazzica con testi teatrali o magari con piccoli capolavori cinematografici dell'epoca d'oro della Hollywood anni 50. Oggi parliamo di Ana de Mendoza, principessa di Eboli. Già solo se scrivete Ana de Mendoza o Ana di Eboli o anche la principessa di Eboli, se andate a cercare su Google l'immagine, la prima cosa che vi troverete davanti sarà il ritratto di questa donna con una vistosa benda nera sull'occhio, tant'è che qualcuno penserebbe, ma com'è, una piratessa con tanto di abiti cinquecenteschi, con tanto di gorgera, ton al collo, l'acconciatura di capelli proprio da Spagna del Cinquecento. Sì ragazzi, sì, una donna, una dama, una gran dama della corte spagnola con una benda nera all'occhio. Sì, infatti ancora non so bene come titolarlo questo video, sa, la bella dama senza occhio, ma ci penserò intanto. Beh, comunque il titolo lo troverete qui sotto, vuol dire che ci avrò pensato a lungo prima di arrivare a idearlo. Bene. E chi è questa figura così particolare anche solo nel vederla. Infatti, quante volte avete visto il ritratto di una dama del Cinquecento dove la suddetta dama aveva una benda all'occhio? Ma poi cosa nasconde quella benda all'occhio? Quale deformità nasconde? Si nasconde sotto quel ritaglio, quell'elegante ritaglio di stoffa un po' vezzoso? Ci arriviamo subito. Iniziamo proprio da lei, dalla protagonista di questa storia molto intricata, questa storia dove si intrecciano intrighi, tradimenti, storie d'amore, intrighi politici, tradimenti, come vi ho detto, adulteri, fughe avventurose da monasteri, eccetera eccetera. Come vi ho detto c'è materiale proprio per un romanzo. E mi pare sì, sono stati anche scritti dei romanzi, sì, a riguardo che arrivo sempre in ritardo. Non è colpa mia, è colpa dell'editoria italiana che purtroppo certe perle non ce le fa arrivare o comunque le toglie subito dal mercato. Accidenti? Allora, partiamo, come vi ho detto, dalla protagonista. Ana di Eboli. Ana con una N, sì, come la disgraziata protagonista delle 50 sfumature desta ceppa. Solo che Ana non sta per Anastasia, ma Ana è l'equivalente spagnolo di Anna. Anna, però potrei dire Anna tranquillamente l'italiana, però no, sti cavoli. Siamo in Spagna, usiamo i nomi spagnoli, quindi Ana. Ana di Eboli, al secolo Ana de Mendoza della Cerda, della Cerda, della Cerda. Ilaria, chiedo sempre aiuto a te per quanto riguarda gli accenti. Lo so che mi stai guardando. Allora, Ana de Mendoza nacque il 29 giugno del 1540 a Guadalajara, figlia del duca di Francavilla. Personalità proprio di spicco nell'alta nobiltà spagnola. Vi basti solo sapere che 15 anni dopo la nascita della figlia, intorno al 1555 qualcosa, il duca di Francavilla sarebbe stato nominato niente di meno che vice re di Aragona da Filippo II. Eh, giusto per farvi capire. Come vi è? E, beh, dai. Affrontiamo subito l'elefante nella stanza. Perché Ana di Eboli ci viene presentata nei suoi ritratti con questa benda sull'occhio? È una questione ancora aperta. La storia più famosa al riguardo sul perché lei avesse questa benda all'occhio la risale addirittura quando lei aveva 11 anni. Proprio per far capire che bel caratterino che aveva fin da bambina, la piccola Ana, ancora undicenne, avrebbe sfidato a duello addirittura un paggetto con tanto di spade vere e in questo duello la bambina ci avrebbe rimesso l'occhio. Penso che il paggetto ci avrà rimesso qualcosa di più, ma la storia non ce lo dice. E questo, quindi, da questo avventuroso duello fatto da una bambina di 11 anni, giusto per intenderci, avrebbe generato proprio il mito di questa donna bellissima ma senza un occhio. Da qui proprio l'origine della benda. Poi ci sono ipotesi un po' meno avventurose, diciamo, come ad esempio il fatto che magari lei avrebbe perso l'occhio durante un incidente di caccia, più semplicemente, il che sarebbe anche molto probabile, oppure più semplicemente. Lei l'occhio lo aveva, solo però che era affetta da una forma parecchio evidente di strabismo e quindi lei indossasse la benda per nascondere questa sua deformità fisica. Oppure c'è chi dice addirittura che lei in realtà non avesse alcun problema all'occhio e che indossasse la benda soltanto per una questione un po' di moda, un po' per farsi notare. Beh, abbiamo capito che come gira e rigira già abbiamo visto che Anna de Mendoza fin da piccola aveva dimostrato di avere un carattere di un certo calibro, di un certo livello. Addirittura per quanto riguarda la storia del duello quando aveva 11 anni c'è chi dice addirittura che avrebbe sfidato a duello non un paggio ma addirittura l'infante di Spagna, Don Carlos. Però questa è una leggenda sulla quale penso non si possa dar credito perché per un semplice fatto, se veramente avvenne questo duello quando Anna aveva 11 anni, Carlos ne aveva 6. Certo, oddio, Carlos era una testa calda fin da piccolo ma mi sembra un po' difficile vedere un principino di 6 anni che viene sfidato a duello e affronta in duello una bambina di 11 anni. Questo è il gossip tutto made in Spain. Comunque, chiusa un po' la parentesi dell'occhio, tenete presente quindi quando vi parlerò di Anna che lei avrà sempre questa vistosa benda sull'occhio tranne nei momenti di intimità, ma ci arriveremo. Bene, Anna si fidanzò ancora, venne fatta fidanzare ancora 12enne a Rui Gomez, principe di Eboli, ministro di Filippo II e uno degli uomini più potenti di Spagna e mica Corbezzoli. Ma oltre al fatto che lei aveva solo 12 anni, c'è da considerare anche il fatto che il fidanzato era più vecchio di lei di 24 anni. Ok, bene. E anche per questi motivi, dopo il matrimonio, che si tenne l'anno successivo, sappiamo che il matrimonio probabilmente venne consumato 4 anni dopo, perché sappiamo che per i primi tempi, i primi anni dopo il matrimonio, Anna continuò a vivere in casa dei genitori. Probabilmente si voleva aspettare che raggiungesse un po' lo sviluppo fisico ideale per concepire. E infatti abbiamo, basandoci un poco sulle date, il primo figlio che di Anna e di Rui Gomez nacque circa 5 anni dopo il loro matrimonio, quindi è probabile che avessero aspettato un 4 anni all'incirca prima della consumazione. In totale i due ebbero ben 10 figli tra maschi e femmine, dei quali solo 6 raggiunsero l'età adulta. Essendo già di per sé la figlia di uno degli uomini più nobili, più ricchi, appartenenti agli strati più alti dell'aristocrazia e avendo sposato il primo ministro del re, possiamo solo immaginare che Anna di Eboli fosse probabilmente nella schiera delle prime donne a corte. Probabilmente faceva parte dello stuolo di dame molto vicine alla regina Elisabetta di Valois, terza moglie di Filippo II. Abbiamo testimonianze di prima mano che ci dicono che lei fosse una delle più belle a corte, seconda forse solo a Elisabetta di Valois, ma ricordiamoci che Elisabetta era la regina, quindi bisognava per forza di cose riconoscerle una bellezza superiore alle altre, ma anche andando a vedere un po' i ritratti dell'epoca, possiamo dire che sebbene ai primi tempi Elisabetta fosse molto bella, col tempo iniziò un po' ad appassire precocemente, mentre invece dai ritratti che abbiamo di Anna emerge sempre una bellezza incredibile, una bellezza che potrebbe andare bene anche nella nostra epoca e il fatto che avesse probabilmente, non avesse un occhio, probabilmente accresceva ancora di più la sua bellezza, dandole quella nota di fascino in più, quella sorta di difetto che ne accresceva ancora di più il fascino e a ciò si andrebbe ad aggiungere probabilmente una personalità molto particolare, molto forte, doveva essere una ragazza, una donna di una certa cultura. Se consideriamo i suoi sviluppi futuri, non doveva essere una donna senza cervello, anzi doveva essere molto 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 intelligente, come dimostrò in seguito, e doveva essere addentro anche nella corrente politica che animava in quell'epoca il regno di Filippo II, perché bisogna dire che all'epoca nella corte si battevano due partiti. Il partito ebolista, che prendeva appunto il nome dal marito di Anna, che era il partito, possiamo chiamarlo il partito liberale, quello più di sinistra, tra virgolette, che vedeva diciamo la gestione del potere, scusate mi è caduto, ecco lo sapevo, mi cadono i pezzi, che vedeva la gestione del potere in maniera molto più ampia, molto più gestita su larga scala, e contrapposta a lei c'era il partito conservatore, che puntava ad una monarchia unitaria con un potere molto più centralizzato, e in questo partito veniva capeggiato dalla figura molto rilevante del duca d'Alba, Fernando Álvarez de Toledo, forse il nome più spagnolo che sentirete in questo video. Da qui possiamo capire quanto Anna fosse anche molto vicina al potere, e anche come vi ho detto ciò che avverrà nella sua vita futura lascia intendere che lei fosse probabilmente una stretta collaboratrice del marito. Ma la politica e gli intrighi di corte che ne derivavano non sembrano essere stati il suo unico interesse, infatti come molti personaggi della nobiltà all'epoca lei era piuttosto religiosa, ma non religiosa nel senso bigotto del termine, come potremmo intenderlo oggi, anzi era più una sorta di religiosità di facciata, di quelle di cui, per farvi un esempio, non quel tipo di persone che vanno in chiesa per vera devozione, ma che vanno in chiesa soltanto per farsi vedere, per mostrarsi in tutta la loro ricchezza, mostrando gioielli e crucifissi dorati, tempestati d'argento, è un po' la religiosità che sbandierano certi politici al giorno d'oggi che fanno politica con il rosario in mano e appellandosi al cuore immacolato della Vergine Maria, non faccio nomi, capite voi di chi parlo. Ed è particolare questa storia che, tanto per cambiare l'avrò ripetuto già tre quattro volte, avrà degli sviluppi nel futuro, ovvero il rapporto che Ana e suo marito ebbero con una figura molto importante per quanto riguarda la spiritualità non solo della Spagna dell'epoca, ma anche della storia della chiesa della controriforma, ovvero Teresa Davila, oggi una delle sante più importanti della chiesa cattolica, un dottore della chiesa e mia maestra spirituale, come potrete vedere bene. Allora, all'epoca Santa Teresa, che vabbè non era ancora santa, comunque Teresa Davila, era impegnata nel portare avanti la sua opera di rifondazione dell'ordine delle carmelitane scalze e di conseguenza stava fondando vari monasteri assieme alle sue consorelle, uno di questi venne fondato grazie al patrocinio dei due principi di Eboli, che venne eretto in una delle loro proprietà a Pastrana. Già in questa operazione religiosa si notarono certi maneggi e certi assilli che già allora diedero molto da pensare e soprattutto da penare alla povera Teresa e alle sue consorelle, ma i successivi sviluppi li vedremo in seguito. Voi tenete a mente questa parte di storia. Intanto lasciamo un po' con la cara Teresa e le sue consorelle a finire di costruire il loro ennesimo monastero, sempre con un po' di Anna e di Rui Gomez che le alitavano sulla collottola sul velo. E intanto lei che per citare... no vabbè no, questa citazione me la voglio tenere per dopo, è troppo divertente. Allora, ritorniamo quindi a Corte, dove intanto siamo arrivati al video precedente per intenderci, ovvero a... come vi avevo già raccontato nella precedente lezione, intanto si venivano scanditi i rintocchi finali della tragedia del principe Don Carlos, che dopo il suo tentativo, chiamiamolo così, di spodestare il padre, era stato spogliato del suo titolo e condannato a venire rinchiuso in una stanza, in una torre delle Scorial. E come vi avevo già detto, il principe di Eboli venne nominato suo sorvegliante o guardiano o persona detta al suo benessere o detto più francamente il suo carceriere. E per questo compito i Eboli, marito e moglie, alloggiarono in una stanza sopra all'appartamento slash prigione del principe, dove tramite una sorta di spioncino potevano controllarlo 24 ore su 24, anche se non so con quanta attenzione ci misero in questo loro compito, dal momento che, come vi ho già raccontato, Carlos ci esimise l'impegno a lasciarsi morire lentamente. Le leggende successive, quelle che volevano Carlos fatto uccidere su ordine del suo stesso padre, tendono a vedere nel principe di Eboli la longa manus assassina di Filippo II. Ma, come vi ho già raccontato, è poco probabile un'idea del genere, soprattutto se consideriamo che Don Carlos era sotto la custodia dei principi di Eboli, quindi i loro due avevano un bel po' di interesse affinché il principe non subisse danni alla sua salute. Però il fatto che comunque alla fine Carlos si sia lasciato lentamente morire fa capire che i due non è che si siano messi molto di impegno. Ma, e così, ma come abbiamo già visto, abbiamo già visto come andò a finire, si chiuse questa, con la morte di Don Carlos, si chiuse anche questa breve parentesi di Ana e di suo marito Rui Gomez. E Rui Gomez concluse un'altra fase, proprio anzi concluse definitivamente la sua vita, poco tempo dopo, nel 1573, quando morì. Rimasta vedova, ancora giovane, Ana, in un eccesso di devozione spirituale, decise di ritirare in convento, nello stesso convento di Pastrana delle Carmelitane Scalze, dove che lei stessa aveva aiutato a fondare. Bene, tranquillamente. La Teresa, come scrisse anche nei suoi scritti, non si faceva problemi. Lei, le porte dei suoi conventi, del suo ordine, erano aperte a chiunque lo desiderasse. Ana non prese i voti monastici, ma rimase lì come una sorta di monaca terziaria, per certi versi, anche se l'ordine terziario non era stato ancora fondato, ma dettagli. Lei andò a vivere nel convento, iniziò a vivere seguendo le regole delle Carmelitane, senza però prendere il velo. Le cose andarono bene per quanto? Tre, quattro giorni? Quanto ci volle ad Ana, prima di rompersi un po' le scatole iniziare di nuovo a voler ritornare alla vita di società, ma una vita di società che lei non... allora, lei non fece quello che avrebbe fatto una persona normale, ovvero ritornare tranquillamente nei suoi castelli, in una delle sue proprietà che le erano state lasciate in eredità dal marito, ma semplicemente decise di restare nella sua area. Sì, perché non è che si accontentava di una cella, era una principessa vedova, mica era una pezzente qualsiasi, quindi lei aveva tutta una parte del convento a sua disposizione e iniziò ad aprirla ai suoi amici, conoscenti e parenti e visitatori. Di conseguenza iniziò un lungo andirivieni di gente nobile e quant'altro dal convento. E l'ordine carmelitano, come lo stava rifondando Teresa, puntava molto alla pace, alla contemplazione, alla clausura, all'esilio perpetuo e volontario dal mondo. Quindi potete immaginare in che stato versavano adesso Teresa e le sue consorelle che dovevano fare praticamente da da sciaperoni involontari alla vita mondana di Ana di Eboli. E per citare il dio di Aggiungi un post a tavola di Garinei e Giovannini, in me tutto è eterno, tranne la pazienza, e in effetti la pazienza di Teresa e delle sue consorelle si esaurì quanto prima. Resistetterò sicuramente molto più di quanto avesse resistito Ana nel suo voler vivere una vita morigerata e claustrale. Durarono sicuramente molto di più. Fatto sta che alla fine anche loro raggiunsero il loro livello massimo di sopportazione e dal momento che non potevano mettere alla porta Ana, che era tecnicamente la padrona di casa in quel convento, non potevano fare altro che tagliare la corda. Quindi notte facendo, Teresa e le sue consorelle, tagliarono la corda e lasciarono il convento per rifugiarsi in un convento vicino. Potete quindi ben immaginare Ana che si risveglia una mattina e come Morgan a Sanremo dopo che Bugo se n'è andato... che succede? Fu un casino proprio. Ana strepitò e polemizzò in una continuazione incredibile. Si appellò addirittura a Filippo, però alla fine Teresa l'ebbe vinta perché tra la mondanità, tra i diritti della nobiltà e lo spirito cattolico che animava il regno di Stagna all'epoca, vinse quest'ultimo. E così Ana fu costretta ad abbozzare e a ritirarsi nella sua zona di pastrana con la coda tra le gambe, ma non rimase lì a lungo. Infatti nel 1576 ritornò a corte richiamata niente popò di meno che proprio da Filippo II, che ufficialmente la richiamò affinché potesse occuparsi meglio delle sostanze che suo marito aveva lasciato in eredità ai loro figli. Ufficiosamente... Allora, sappiamo che Filippo, nonostante fosse il sovrano cattolico per eccellenza, non è che si facesse tanto scappare l'occasione di avere intrallazzi con qualche bella dama di turno. Da questo punto di vista aveva preso tutto quanto da suo padre, Carlo V. Come mi aveva già scritto in un commento alla video-lezione precedente la cara Ilaria Ceccarelli in arte da Iana92.4, ebbe anche non poche amanti. Le più famose sicuramente sono Isabel Osorio, che lui ebbe già al tempo del suo primo matrimonio. E poi sappiamo anche che nell'intervallo che intercorse tra il suo primo matrimonio con la cugina Maria Emanuela Davies e il suo secondo matrimonio con Maria Tudor venne intervallato da un suo breve intrallazzo con una nobile tedesca Margareta von Faldeck, personaggio di cui forse parlerò in seguito perché si ricollega addirittura alle origini di una fiaba molto famosa di cui parlerò in un prossimo video. E proprio nella schiera delle sue amanti note o poco note di Filippo c'è anche chi fa rientrare la bella e conturbante Ana de Mendoza, principessa di Eboli. Oggi allora sembra piuttosto accreditato da alcuni storici, però considerando il fatto che questo elemento ovvero del legame sentimentale intercorso tra Filippo II e Ana emerge molto soprattutto in opere di fantasia. Lascia un po' il dubbio se si tratti di una semplice leggenda, un po' oppure anzi meglio di gossip, o se non sia realmente avvenuto e in questo caso lo furono già al tempo del matrimonio di Ana? O lo furono successivamente al ritorno di Ana a corte? Al di là del fatto che, come vi ho detto, non ci siano prove a riguardo e quello che ne sappiamo è per lo più frutto di gossip, di voci di palazzo e leggende, opere teatrali e film, c'è da dire che alcuni aspetti delle azioni future di Filippo nei confronti di Ana, come vedremo, fanno sorgere qualche ragionevole dubbio sul fatto che tra i due magari ci sia stato un qualcosa di più, di un semplice rapporto sovrano-suddita. Ma al di là delle motivazioni che spinsero Filippo a richiamare Ana a corte, fatto sta che alla fine Ana ritornò alla vita di corte, probabilmente ritornò nel suo ambiente naturale, ed è proprio con questo ritorno a corte che avviene l'incontro che trasformerà questa storia in una trenovelas spagnola con tanto di colonna sonora suonata da chitarra, uomini con la camicia sbottonata, donne con i capelli al vento, intrighi, passioni, storie d'amore segrete, puntate interrotte con un cliffhanger sottolineato da uno sguardo sconvolto e drammatico, e tutto farcito da «Hola, mi nombre esi Nigo Montoya, tu hai ucciso mi padre, preparati a morire» Oddio, scusate non so che mi è preso, oddio, ok, ok, basta, 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 ok mi calmo, oddio, ma perché questa risata isterica, scusate, allora, ok, ricomponiamoci, ok, ok, basta, basta cavolate, allora, quale incontro avvenne, chi incontrò, chi conobbe Ana, Ana al suo ritorno a corte, conobbe Antonio Perez, segretario personale di Filippo II e segretario di Stato, ma chi era costui? Allora, piccola nota a parte per introdurre il personaggio di Antonio Perez, che da adesso in poi assorgerà coprotagonista, allora, coetaneo di Ana, nato infatti il suo stesso anno, Antonio non poteva vantare gli stessi natali illustri della donna, dal momento che era un figlio illegittimo di Gonzalo Perez, segretario di Stato di Carlo V e appartenente al clero in tutto questo, quindi non solo figlio illegittimo, ma addirittura figlio illegittimo di un chierico. Venne legittimato grazie all'intercessione di Carlo V, così poter ereditare il cognome del padre, ma addirittura ci sono le solite voci di corridoio che lo vorrebbero addirittura figlio segreto di, tenetevi forte, del principe di Eboli, defunto marito di Ana. Sono voci confermate, non sono voci confermate, ma anzi sono molto proprio leggendari, ma è giusto per farvi capire lo scenario in stile il segreto che già si sta delineando. Come anche, proprio come Ana, anche Antonio era sposato, non era vedovo, sua moglie era ancora viva per fortuna. Era sposato con Juana Coelio, che gli diede sette figli. Anche lui, come tutti quanti le altre persone che giravano attorno all'astro solare che era Filippo II, anche Antonio Perez era ambizioso e desideroso, come tutti quanti alla Corte di Spagna, di guadagnare potere e ricchezza. E già solo per raggiungere la carica di segretario di Stato aveva maneggiato non poco. Probabilmente Antonio e Ana già avevano avuto modo di incontrarsi e conoscersi in passato, ma adesso le cose erano cambiate. Venuto a mancare infatti il principe di Eboli, adesso era Antonio ad essersi posto a capo del partito liberale ebolista e, visto l'interesse politico che li legava, probabilmente ritornata a corte, Ana iniziò a cercare di riprendere un po' quello che era il suo ruolo anche nelle ombre, nelle retrovie che già aveva all'epoca in cui era vivo suo marito, questa volta allisciando il pelo al nuovo capo del partito ebolista, cioè Antonio. E visto l'interesse politico che legava entrambi, i due si avvicinarono e iniziarono una stretta collaborazione politica ed economica che, non mancò molto, si spostò dalla scrivania alla camera da letto. O magari stesso sulla scrivania, chissà. Tanto nessuno qui è bigotto, quindi tranquillamente, tranquilli, cioè. Siamo persone di mondo, sappiamo come vanno certe cose. Fatto sta che i due intrecciarono una vera e propria relazione, non sappiamo se fu soltanto di carattere, diciamo così, poco casta, o se magari allegarli, magari ci fu anche un sentimento un po' più profondo, o forse, come capita molte volte in questi frangenti, iniziò prima con un interesse puramente di vantaggio economico e politico per entrambi, che i due pensarono di aglietare con qualche acrobazia da talamo, e magari andando avanti la cosa potrebbe essersi evoluta ed essersi spostata anche un po' più sul piano sentimentale. Siamo un po' nel campo delle ipotesi. Penso che magari fosse meglio se mi fermo qui con le varie relazioni, perché altri stiamo veramente scadendo un po' con la tripla X a tinte rosa porcellino. Un avversario, allora come vi ho detto per ritornare un poco anche all'ambito politico e per spiegare il caos che sarebbe scoppiato di lì a poco, all'epoca uno degli avversari più tenaci del partito ebolista in generale e di Antonio Perez e Diana di Eboli in particolare era Don Giovanni d'Austria, personaggio che abbiamo già incontrato nel video precedente. Don Giovanni d'Austria era il fratello bastardo di Filippo II e sia Anna che Antonio finirono per trovarsi in lotta aperta con lui, che tanto favore aveva acquistato a corte, tanto tra le milizie militari quanto anche tra il popolo. Capendo quindi per questo motivo quanto fosse pericoloso averlo intorno, Antonio iniziò a mormorare all'orecchio di Filippo in stile grimavermilinguo del Signore degli Anelli, soprattutto per quanto Don Giovanni stesse mostrando delle aspirazioni parecchio personali che puntavano in direzione dell'Inghilterra e, avendo vinto la battaglia di Lepanto, il giovane condottiero sembrava avere buone possibilità per conquistare l'Inghilterra, l'Inghilterra che all'epoca era retta dalla protestante Elisabetta prima. E quanto grazie a certe voci che misero in giro anche Antonio e Anna, si iniziò a mormorare in giro che Giovanni stesse puntando alla riconquista cattolica dell'Inghilterra, ma in quel frangente qualora fosse andato tutto a buon fine e, visti i suoi successi militari, sembrava molto molto probabile. Sembrava voler, si mormorava in giro che lui avesse, che Don Giovanni avesse intenzione di sposare l'allora prigioniera di Elisabetta, della cugina Elisabetta, Maria Stuart, la regina, la ex regina di Scozia, che per i cattolici convinti doveva essere anche l'unica vera erede per il trono d'Inghilterra. E in questo modo, se qualora Don Giovanni avesse sposato Maria Stuart, sarebbe diventato de facto aspirante re d'Inghilterra. Questo invelenino un poco, Filippo, che nonostante la devozione e la fedeltà che il fratello Bastardo gli dimostrava continuamente, iniziava un po' a infastidirsi per l'enorme successo che Don Giovanni acquistava a corte e tra il popolo. E in questo vespaio che Antonio e Ana stavano alimentando, gettando benzina su un fuoco già acceso, in questo clima di contrasti familiari si iscrive un omicidio, l'omicidio che probabilmente avrebbe segnato la fine di Antonio e Ana, ovvero l'omicidio di Juan de Escobedo, il segretario di Don Giovanni d'Austria, che venne mandato da quest'ultimo alla corte affinché spiegasse al re, a Filippo, come stavano realmente le cose. Quindi quando Escobedo era una mina vagante per Ana e Antonio, infatti avrebbe potuto rivelare tutte le magagne che i due avevano architettato per far perdere di favore il fratello bastardo del re. Ed è qui che si iscrive l'omicidio. Un omicidio che comunque Antonio cercò di legittimare, parlandone sempre all'orecchio di Filippo, suggerendo che magari sarebbe stato il caso di eliminare Juan de Escobedo, che probabilmente non doveva avere buone intenzioni. Filippo non disse di sì all'omicidio, ma non disse neanche di no, tecnicamente. E questo probabilmente il silenzio accondiscendente di Filippo segnò la fine di Juan de Escobedo, che infatti venne ucciso proprio fuori le porte del palazzo di Ana, dopo una cena a cui Escobedo era stato invitato. Ucciso, forse per mano di Antonio, forse per mano di qualche sgherro pagato da Antonio Perez? Non lo sappiamo. La cosa venne messa comunque a tacere perché Filippo si rese conto che con il suo silenzio poteva essere, diciamo, rischiava di rimanere invischiato anche lui nel caos che si sarebbe andato a creare. Le cose cambiarono alla morte dello stesso Don Giovanni d'Austria, avvenuta per malattia o, secondo le solite voci, tanto per cambiare, a causa del veleno. Dopo la morte di Don Giovanni d'Austria saltarono fuori tutti i documenti che provavano la sua innocenza e la sua buona fede e di conseguenza saltarono fuori anche tutti gli inganni di Antonio e di Ana che, così, si videro completamente perduti e il 28 luglio del 1579 vennero arrestati. Da qui vediamo la grande rabbia che Filippo riversò su Ana, soprattutto dopo che si venne a sapere che sia Ana che Antonio, oltre ad essere due intriganti che stavano maneggiando per ottenere molto più potere a discapito anche di tutti i loro possibili avversari politici, avevano anche una relazione adulterina, se consideriamo il fatto che Antonio era comunque sposato. E qui si vede un po' emergere una rabbia inconsulta da parte di Filippo, nei confronti di Ana soprattutto. E questo ci pone una certa domanda, ci pone qualche dubbio sul fatto che magari tra i due ci potrebbe, c'erano stati o forse c'erano ancora dei trascorsi, c'erano stati dei trascorsi o magari c'era ancora una sottile linea di relazione? Non lo sappiamo. Ma infatti perché altrimenti come potremmo spiegare questa rabbia, questo scatenarsi di Filippo nei confronti di Ana? Ana che tecnicamente poteva essere scagionata, lei in quanto donna non è che poteva, non veniva visualizzata nei documenti ufficiali, quindi una sua probabile partecipazione poteva essere ritenuta molto secondaria, quindi non si spiegherebbe proprio il perché Filippo si fosse scatenato con tanta ferocia anche contro di lei. Quindi a cosa si ascrive questa rabbia? A un tradimento per una fiducia mal riposta? Un tradimento personale a causa del legame di Ana e di Antonio? Non si sa. Siamo sempre nel campo delle ipotesi. I due amanti intriganti amanti intriganti, fa pure rima, non me ne ero accorto, amanti intriganti, va bene. I due amanti intriganti vennero quindi arrestati e vennero spostati da una prigione all'altra fino a quando non vennero separati. Ana venne esiliata a vita dalla corte, privata dei suoi beni, abbandonata totalmente dai figli che si staccarono da lei per non rischiare di venire toccati dallo scandalo che la madre aveva causato e lei venne rinchiusa nel suo castello di Pastrana, mentre Antonio, non avendo una nobile nascita a parargli le spalle, finì sotto le spire della tortura, fino a quando non confessò i suoi crimini, l'omicidio di Juan de Escobedo e venne condannato a due anni di carcere. Anni di carcere che comunque Antonio non trascorse, non diciamo non trascorse in carcere. Infatti qua entra in scena la figura di quella povera donna cornuta e mazziata di sua moglie, Joanna Coelho, che con uno stratagemma, con la scusa di andare a visitare il marito in carcere, gli diede i suoi vestiti facendolo scappare, così Antonio evase di prigione travestito da donna, mentre sua moglie e successivamente anche i suoi figli dovettero scontare la pena al posto suo, la sua pena in carcere al posto suo, fino a quando non vennero graziati successivamente dopo la morte di Filippo. Antonio invece riuscì a fuggire, spostandosi di volta in volta prima nell'Aragona, dove tentò di creare una sorta di sollevazione contro Filippo, sollevazione che non andò in porto. Di conseguenza lui fu costretto allora a scappare prima nella Francia di Enrico di Navarra e da lì successivamente passò all'Inghilterra, dove iniziò a spargere in giro quelle che sarebbero poi diventati gli elementi principali della già citata, sia nel video precedente che in questo, leggenda nera di Filippo II, quindi iniziando a spargere la voce che Filippo II non fosse l'esempio più eclatante del sovrano cattolico per antonomasia, ma fosse in realtà un sovrano amorale, privo di sentimenti crudele nei confronti di chiunque, persino dei suoi parenti più stretti. Iniziò a gettare i semi di quelli che sarebbero diventate le future leggende anche di Don Carlos, iniziò a spargere la voce di grandi usi di veleno nei confronti dell'ambito della famiglia di Jasburgo di Spagna, eccetera, eccetera. Un modo per vendicarsi del trattamento subito mentre era in carcere sotto tortura. Certo, non è che non se lo fosse meritato dal momento che aveva ucciso un uomo, ma, beh, dettagli, ognuno pensa al suo orticello. Ana e Antonio non si rividero mai più. Lei morì in esilio nel suo palazzo, in esilio e in disgrazia nel suo castello di Pastrana nel 1592, mentre Antonio le sopravvisse per quasi un ventennio, morendo a Parigi nella miseria più nera nel 1611. Si conclude così anche la loro storia. Una storia veramente proprio che è praticamente un romanzo, per dirla tutta. Passiamo adesso ai riferimenti. Come vi ho detto allora, per quanto riguarda i riferimenti bibliografici, non è che ci sia molto che io abbia trovato su di loro, a parte i riferimenti nella biografia, nelle varie biografie di Filippo II di Spagna. Ho notato comunque in biblioteca, è uscito da qualche anno un testo di cultura sul regno spagnolo di quell'epoca. C'è in copertina proprio un ritratto di Anna di Eboli e pare si parli anche di lei, però non ho avuto modo di leggerlo quel libro. Per quanto riguarda invece il mondo dei romanzi, la figura sia di Anna che di Antonio è molto usata. Ad esempio, Anna compare nel Don Carlos di Schiller, dove viene, prima di tutto, viene presentata semplicemente come principessa di Eboli, ma sappiamo che è in lei. Qui viene rappresentata come un'innamorata respinta proprio di Don Carlos, che per ripicca diventa l'amante di Filippo II. Mentre invece Antonio Perez compare col suo solo cognome Perez nel Filippo di Vittorio Alfieri, qui rappresentato come un personaggio positivo, come l'unico che prende le difese di Carlos e questo lo porta a alienarsi il benvolere di Filippo, qui rappresentato come un tiranno. Quindi già possiamo capire che Vittorio Alfieri fece gran tesoro delle stesse dicerie messe in giro da Antonio Perez su Filippo. E in più, Anna, all'epoca del suo matrimonio con Rui Gomez, infatti compare anche Rui Gomez, compare anche come personaggio secondario nell'ultimo crociato di Louis de Vol, romanzo su Don Giovanni d'Austria, il fratello bastardo di Filippo. Per quanto riguarda la cinematografia, esiste, venne realizzato nel 1955 il film La principessa di Mendoza, tratto da un omonimo romanzo scritto dal romanzo Death Lady, quella lady, quella donna, quella dama, di Kate O'Brien del 1946. Il film si concentra sulla storia di Anna e di Antonio in maniera piuttosto romanzata e qui Anna è interpretata da Olivia de Aviland, la Melania di Via Colvento, che proprio qualche settimana fa ci ha lasciati alla veneranda età di 104 anni. E nel 2010 è stata realizzata una miniserie spagnola in due puntate su di loro dal titolo La Princesa d'Eboli, che potete trovare anche completa anche qui su YouTube, sia in originale, sia sottotitolata in italiano. E per concludere mi avvio la conclusione creando il collegamento anche con il prossimo e ultimo video, che non so se sarà il prossimo, ma probabilmente sarà il prossimo successivo al... vabbè, avete capito che questa trilogia la faccio alternata. Comunque, per creare il collegamento con la conclusione di questa sorta di trilogia, i due sono personaggi principali anche in un... in un testo teatrale poco noto, un testo che... di un autore lussemburghese, Karst Wudstra, che si intitola Offscenes, tradotto in italiano Scene di Corte. Qui in Italia non mi sembra sia mai stato... non si è mai giunto in scena. C'è una sua traduzione, ma non esiste, diciamo, un libro che sia... o comunque non l'ho visto che sia un libro messo sul mercato. Mi è capitato di vederlo in mano a un regista, a un mio amico regista che conosco. Ho avuto modo di l'ingiucchiarlo, non in maniera completa. E per quanto ne so, la versione italiana di questo testo, appunto Scene di Corte, è stata portata in scena una sola volta nel mio piccolo paesino qua, a Pomigliano d'Arco, per la regia di questo mio amico regista, Felice Panico, con me nel ruolo di protagonista. Per la prima prima... per la prima volta in tutta la mia carriera teatrale è stata la prima volta in cui ho interpretato il ruolo da protagonista. Di cosa parla questo Offscenes? È un adattamento moderno di... della storia di Don Carlos, però qui Don Carlos non ci viene rappresentato secondo gli stilemi classici settecenteschi dell'eroe romantico, innamorato della sua matrigna e in lotta perenne col padre tiranno. Ma bensì molto più vicino alla realtà storica viene mostrato come un ragazzo sofferente di turbe psichiche molto violente anche e che si ribella in continuazione all'autorità paterna, un'autorità paterna che però non è positiva, così come Carlos non è in grado di essere un figlio, Filippo non è in grado di essere un padre. Vediamo svolgersi attorno a questa lotta tra padre e figlio le varie vicende di questi vari personaggi che ruotano attorno al... a questo... a questa storia, tra loro, tra cui appunto c'è la storia di Anna di Eboli e di Antonio Perez. La loro storia quindi come vedete è... è spostata più indietro nel tempo in confronto alla cronologia storica attuale, infatti questo testo si prende molte libertà di carattere storico anche... soprattutto per quanto riguarda Anna di Eboli e Antonio Perez che ci vengono rappresentati come amanti segreti, nel mentre che Anna intrattiene una relazione di tipo sadomasochistico con il re Filippo II. I due potrebbero essere intesi quasi come dei personaggi secondari, quasi co-protagonisti perché sono molto presenti in scena e ad interpretarli che sono due dei miei più cari amici non solo del campo del teatro ma anche della vita, ovvero Francesca e Raffaele che... non so se state vedendo questo video ma io questo video lo dedico a voi, voi che siete la mia Anna e il mio Perez. Io vi voglio un mondo di bene ragazzi, io ho iniziato... ho iniziato la mia carriera a teatro proprio in... quasi in contemporanea con voi due e devo dire voi siete tra le tante piccole costanti della mia vita, voi siete due di queste piccoli costanti e siete tra le più importanti, vi voglio un mondo di bene, siete il mio Antonio Perez e siete la mia Anna di Eboli e lo sarete ancora perché loro lo sanno e lo dico anche a voi, ho ripreso in mano in tempi recenti, visto anche... visto anche in fronte del fatto che stiamo creando una nostra compagnia teatrale ufficiale, ho ripreso in mano il testo di Karst Wudstra e l'ho completamente ripreso in mano e l'ho riscritto completamente. Ho aggiunto... ho tenuto in mano soltanto i nomi dei personaggi e la struttura ritmica dello spettacolo, però le battute, la storia in sé per sé l'ho completamente riscritta. Ho fatto leva maggiormente su alcuni aspetti come il rapporto tra padre e figlio e soprattutto l'omosessualità. Infatti il Don Carlos di Karst Wudstra è un Don Carlos omosessuale innamorato di un membro del suo piccolo entourage, questa piccola corte che è formata da persone che cercano di proteggerlo non tanto dall'ira del padre quanto da se stesso, personaggi che io ho voluto ricreare a suo modo anche sulla falsa riga di persone che conosco, con i quali ho a che fare, che vorrei vedere e diciamo ho un po' costruito i personaggi sugli attori, cosa che forse non si dovrebbe mai fare, ma mentre scrivevo le vite di questi personaggi mi trovavo davanti proprio le persone che conosco sovrapposte ai personaggi, per cui per forza di cose siamo un po' andati a creare questa situazione. e quindi sto già creando il collegamento con quello che sarà il prossimo video, non so se sarà quello che verrà successivamente a questo video, probabilmente il prossimo video sarà una video recensione che aspetto di fare da parecchio, ma sicuramente successivamente arriverà un altro video che spero vedrete, sarà una mia recitazione ripresa dalla mia riscrittura di questo Don Carlos, sarà fatta in maniera molto raffazzonata perché, come voi saprete, questi video li faccio io da solo per conto mio con il mio cellulare, quindi sarà un po' difficile ricreare tutta una costruzione scenica recitativa, vedrò cosa fare, vedrò soprattutto come verrà. Mi riservo il diritto di decidere in ultima analisi se postarla o meno, qualora dovessi rimanere soddisfatto del risultato finale. E questo è. Cercherò magari, sto cercando di creare un po' un monologo che cerchi di, che riassumo un po' con l'intero spettacolo per renderlo scorrevole a chi magari non conosce l'andamento della trama, quindi lo sto ancora un po' preparando, quindi forse mi ci vorrà un po' di più. E vediamo un poco come andrà a finire. E quindi ho creato il collegamento con il video conclusivo di questa trilogia ambientato alla Corte di Spagna di Filippo II, vediamo come sarà il capitolo conclusivo. E intanto io concludo qui questa video lezione. Spero che vi sia piaciuta e che la storia di Anna Di Eboli e di Antonio Perez vi abbia interessato. Se vi è piaciuta lasciatemi un like. Commentate e ditemi la vostra se conoscevate questa vicenda, se non la conoscevate. E iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Mettete mi piace anche alla mia pagina Facebook. Seguitemi anche su Instagram, sempre se volete, così da rimanere aggiornati anche sulle mie prossime pubblicazioni. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Il prossimo video sarà una video recensione letteraria. E successivamente vediamo. Vi farò conoscere il mio Don Carlos. Quindi preparatevi a un bel po' di drama, di angst, eccetera. E sperando che io riesca anche a portarlo in scena. Magari se tutto andrà bene riusciremo a fare anche un trailer. Vedremo, vedremo. Sono molto entusiasta perché è una storia che mi sta molto a cuore per vari motivi. Sì, soprattutto anche molto personali. Poi vabbè. Spero che capirete magari quando vi farò vedere la mia recitazione. E intanto dal vostro Lusio è tutto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. E ciao!